Dicono che con l'uscita dell'Italia dall'euro i risparmi e le proprietà varranno molto di meno. Ma è falso. Anzi, è stato proprio l'euro che ha distrutto i nostri risparmi e la nostra economia. La Lega sono io perché la Lega è l'unica che dice che bisogna uscire dall'euro e tornare ad una nostra moneta. Basta euro, un'altra Europa è possibile.